Buongiorno, in questo breve video vi voglio presentare il servizio di counseling psicologico dell'Università degli Studi dell'Insuria, aperto a tutti gli studenti. Può succedere nel percorso accademico che lo studente incontri problematiche legate a concentrazione, attenzione o a un metodo di studio che si rivela essere non sufficientemente efficace o ben organizzato. Possono insorgere problematiche di stress e ansia legate a studio o a esami, problematiche legate ad autostima o autoefficacia, dubbi sulla scelta universitaria effettuata o problematiche di natura personale che però condizionano i risultati universitari. In tutte queste situazioni vi può essere d'aiuto contattare il servizio di counseling. Il servizio di counseling psicologico infatti ha i seguenti obiettivi, offrire una relazione professionale di aiuto a tutti gli studenti che stanno vivendo un momento di crisi per aiutare loro a individuarne la causa e sviluppare strategie e risorse di adattamento adeguate. Offrire ascolto, supporto e consulenza a tutti gli studenti che stanno affrontando un periodo di crisi universitaria o extrauniversitaria e che sta condizionando il loro percorso accademico, offrire prevenzione e tempestiva soluzione a qualsiasi disagio psicologico. L'Università dell'Insubria offre un servizio di orientamento a tutte le future matricole per aiutare loro nella scelta del percorso universitario, fornendo informazioni sulle modalità di ammissione ai corsi, sull'offerta formativa e su tutti i servizi offerti dall'Ateneo. Se siete interessati a effettuare un colloquio è sufficiente mandare una mail a psicologia.clinica.chiocciolauninsubria.it Il primo colloquio di valutazione è gratuito, gli eventuali successivi hanno un costo di 15 euro. Grazie